Taglio del nastro alle 15 di sabato prossimo nel polo fioristico del Madonnino per l'ormai tradizionale appuntamento con la fiera oltre i dia sposi, la kermesse che il grossito fiere gestisce in proprio per il secondo anno e che è interamente dedicata a tutto ciò che serve per l'organizzazione di un matrimonio. Questa edizione si presenta più ricca di espositori e di eventi. Sarà arricchita rispetto all'anno scorso che già fu un grande successo di oltre 13 stendisti, quindi saranno 73 contro la cinquantina che fu l'anno scorso, molti dei quali provenienti dalla regione toscana, due dei quali addirittura fuori dal territorio della regione toscana, a testimonianza del fatto che la nostra è una fiera appetita, che piace e che molti cercano in termini di sinergia e di compartecipazione. La manifestazione parte dunque sotto i migliori auspici e offre, oltre agli stend, un programma ricco di eventi, dai concerti di violino alle dimostrazioni di decorazioni delle torte, dalle istruzioni sul cerimoniale del matrimonio a ben due sfilati di abiti da sposa che si terranno domenica pomeriggio. Rispetto all'anno scorso ci sarà l'arricchimento e il potenziamento di tutti quegli eventi collaterali che rendono piacevole la giornata non soltanto a chi voglia sposarsi, ma anche a chi magari si è già sposato e voglia rivivere un'atmosfera nuziale, sicuramente che nel cuore di ognuno di noi è importantissima. E poi eventi permanenti come lo spazio per l'assaggio degli spumanti locali sotto la guida dell'Associazione Sommelier, o la possibilità per le coppie di essere ritratte. Concerti, degustazioni gratuite di spumanti, ingressi gratuiti, parcheggi gratuiti, tutto gratuito, tutto gratuito con minimo ricavita di Grosseto Fiere a testimonianza del grande servizio sociale che Grosseto Fiere, secondo la mission pubblica che ha, sta dimostrando a tutto il territorio. Io vi invito veramente a venire perché ci saranno delle sorprese eclatanti e saranno veramente divertenti e momenti che rimarranno anche nella memoria.